Ha riportato fratture agli arti inferiori e lacerazioni cutanee il poliziotto che questa mattina è stato investito da un'auto a Trani in via Martiri di Palermo mentre era impegnato in servizi di controllo. La gente non è in pericolo di vita e se la caverà con 30 giorni di prognosi erano all'incirca le 11 di questa mattina quando il poliziotto è stato investito da un'auto, una Skoda, con alla guida un uomo di 79 anni sotto il ponte della strada statale 16 bis. Secondo la ricostruzione l'agente era posizionato a un lato della carreggiata e stava effettuando il controllo di una vettura, una BMW, che è stata colpita a sua volta dalla Skoda. L'impatto è stato piuttosto violento, il poliziotto è finito sul parabrezza dell'auto, sul posto sono intervenute due equip sanitarie del 118, l'agente ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, il 79enne in stato di shock. Dopo l'accaduto è stato invece portato all'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Trani. Insieme all'agente investito c'era un collega non ferito ma scosso da quanto accaduto, da chiarire l'esatta dinamica, ma pare che il 79enne non abbia visto l'uomo in divisa. Al vaglio, per gli accertamenti, c'è una telecamera di videosorveglianza a poca distanza che potrebbe aver ripreso la scena.